Buonasera e ben ritrovati al nostro consueto appuntamento con le notizie di TG7 Basilicata. A Barile un'automobilista percorre un tratto stradale senza uscita e finisce la sua corsa su una scalinata. L'auto si è fermata contro le barriere di ferro della scala mentre l'uomo ne è uscito miracolosamente salvo. L'episodio, che si è ripetuto in maniera analoga qualche anno fa nella stessa cittadina, ha richiesto per il malcapitato non del posto l'intervento congiunto della locale polizia municipale e dei vigili del fuoco di Melfi, che hanno portato in salvo l'automobile e il suo guidatore. La giunta regionale della Basilicata ha approvato una delibera per abbattere bollette d'acqua ai Lucani. Lo ha reso noto attraverso l'ufficio stampa il presidente Vito Bardi. Dal 29 novembre fino al 2 febbraio 2024 sarà visitabile al pubblico nella Chiesa della Santissima Annunziata a Siena il presepe monumentale della Basilicata, realizzato dal maestro presepista Francesco Artese su iniziativa della Regione Basilicata, dell'Agenzia di Promozione Territoriale della Basilicata, in collaborazione con l'Arcidiocesi di Siena, Colle di Valdelsa, Montalcino, il Comune di Siena, la Fondazione Antico Ospedale Santa Maria della Scala e l'Associazione Lucani di Siena. Seguiranno nelle prossime edizioni interviste ad Artese, Nicoletti, Cagliata e Le Rose. Bene, è anche per questa edizione tutto, da me l'augurio a tutti voi per una buona serata.